Ci siamo fatti promotori di un'iniziativa che coinvolge anche i comuni di Ladispoli e Cerveteri, mettere in piedi un movimento per richiedere la costruzione di un ospedale sull'asse Aurelia Nord. Lo ha annunciato il capogruppo della Lega di Fiumicino, Vincenzo Dintino, che spiega la richiesta può essere messa in atto per un'area urbana abitata da almeno 200.000 persone, ma la normativa dà la possibilità di associarsi con altri territori. Il sindaco Alessandro Grando si è già reso disponibile e siamo fiduciosi di un riscontro positivo anche da parte di Pascucci. Intanto il consigliere comunale di Ladispoli, Giovanni Ardita, torna sulla polemica che riguarda una presunta ambiguità dei Cinque Stelle proprio su questo tema. A Cerveteri hanno votato sì al nuovo ospedale, qui invece no e sono molto amareggiato perché recentemente la sindaca Raggi aveva dichiarato che sarebbe stato importante costruire nuovi nosocomi, ha affermato Ardita, che conclude. A settembre il nostro gruppo consigliare si recherà a Bruxelles per studiare se ci sono fondi europei disponibili da immettere nella sanità. Noi crediamo sia fondamentale poter realizzare un presidio all'avanguardia.